One Podcast Non è vero Che il cinema è stato inventato dai fratelli Lumière Mi fa sempre morire il fatto che i fratelli Lumière vengano sempre considerati come un'entità unica indivisibile Come se fossero dei gemelli siamesi che vanno in giro insieme E in effetti un po' lo sono stati Pensate che addirittura, non sto scherzando, hanno sposato due ragazze che tra di loro erano sorelle E i fratelli Lumière, le sorelle che non so come si chiamino Vivevano in due appartamenti simmetrici nella stessa villa E allora ve lo cercate Fratelli Lumière, top bromance dello spettacolo insieme ai fratelli Cohen e Zack e Cody Comunque oggi, avete capito, parliamo proprio di cinema Sì, allora molti di voi avranno sentito la storia del primo film mai proiettato in una sala cinematografica Ovvero quel cortometraggio di pochi secondi in cui si vede l'arrivo di un treno Che poi qua c'è il primo falso mito Che non è quello il primo cortometraggio realizzato dai fratelli Lumière Sì, dopo lo diciamo, dopo lo diciamo è una storia particolare Secondo falso mito è che il giorno in cui fu proiettato questo corto, questo del treno In cui appunto si vedeva questo treno che veniva verso la telecamera Si dice che le persone si siano talmente spaventate da scappare Chi è svenuto, chi è qua, chi è là, insomma Svenire non conveniva a quel punto Non conveniva, è vero Però anche questo è falso Anche qua è falso perché non ci sono testimonianze Però anche lì poi vedremo Però il nostro mito di oggi non è né il primo né il secondo Ma è un altro, ovvero il fatto che il primo film o comunque il primo cortometraggio mai proiettato Fosse dei fratelli Lumière Ok Però qua bisogna aprire una piccola parentesi Nel senso, cosa si intende per film? Eh, immagini in movimento Eh, perché a quei tempi era un po' incasinata la questione E infatti pare che il titolo di prima proiezione della storia va dal fotografo Edward Mybridge Con The Horse in Motion del 1878 Che quello del cavallo Esatto, infatti questa era la cosa strana Perché era uno scorrimento di immagini Non era proprio a tutti gli effetti una ripresa Infatti era fotografo Esatto Manalmente, erano tante foto messe vicine che davano l'impressione dell'animazione Esatto E quindi si può tecnicamente definire una proiezione Oddio, forse è un'animazione Però un'animazione non è essa stessa una proiezione Sì, ma poi durava A parte questa domanda marzulliana Durava tre secondi Sì, sì, sì Però fu fatto in un teatro Sì, sì, sì Ma che d'altro voleva dimostrare che il cavallo stacca tutte e quattro le zampe nello stesso momento Ah, vero, vero C'era nata per questo motivo come una dimostrazione che potevi fare solo attraverso delle foto Perché all'occhio umano non era percepibile Esatto, quindi diciamo non possiamo dire con certezza che ha vinto lui Però comunque fatto sta che parlando di date Questa qui del cavallo, come vi dicevo, risale al 1878 Mentre il primo cortometraggio dei fratelli Lumière risale a 17 anni dopo Quindi in 1895 A questo punto, se dobbiamo parlare di diatribe tecniche di date Non possiamo non citare l'italiano Filoteo Alberini Il quale nel 1894, cioè un anno prima dell'invenzione dei fratelli Lumière Ispirandosi al kinetoscopio Di quel grandissimo pezzo di genio Di Thomas Edison Aveva creato un apparecchio per la ripresa veloci di immagini Sì, ah ok, sì, sì Praticamente è la solita storia più vecchia del mondo Cioè che noi italiani ci arriviamo un attimo prima Sì, sì, sì E poi Cosa è successo stavolta? Lui la chiamò il kinetografo Vabbè, l'ha vinto, però l'ha chiamato uguale Vabbè, questo kinetografo riusciva a realizzare 16 fotogrammi al secondo Che uno ora può dire, beh però sono pochi Però in realtà è la frequenza che sarebbe stata usata poi per tutto il periodo del cinema muto Quindi a tutti gli effetti ripresa cinematografica Però non è considerato lui l'inventore del cinema Esatto, perché qualcuno ora può dire Ma scusa, ha palesemente vinto Cioè non è un'animazione ma è una ripresa cinematografica È stata fatta prima dei fratelli Lumière Sì, sì, un anno prima Sì E no, perché non state considerando la burocrazia italiana Ok Che gli ha impedito di scrivere il suo nome nella storia Perché gli ha rilasciato il brevetto un anno dopo dalla sua richiesta E considerando che lui aveva inventato questo kinetoscopio un anno prima dei fratelli Lumière Quelli hanno fatto in tempo far uscire Indovina quando gli è stato rilasciato il brevetto Nello stesso mese e nello stesso anno In cui i fratelli Lumière hanno mostrato al pubblico il loro primo corto Ok Che non era quello del treno ma era la sortie dell'usine Lumière Ok Che era un altro corto però non quello lì del treno che ormai viene visto un po' dappertutto Certo Come la prima proiezione storica E quindi niente, se siete molto patriottici potete giocarvela al prossimo litigio con i francesi Perché anche in questo caso Siamo arrivati prima No poi anche lì noi sempre bastone e carota Se dovevamo dargli ragione con la gioconda Adesso Eh sì Li puniamo con la questione Esattamente Del cinema Comunque un anno per registrare un'invenzione Praticamente all'ufficio brevetti c'era il bradipo di Zootropolis Sì Ma comunque Tralasciando la burocrazia italiana Volevo concentrarmi sul mitico film No dei fratelli Lumière Quello del treno Che arriva alla stazione Abbiamo già detto che non è il primo film Perché il primo appunto è questo La sortie dell'usine Lumière Che tradotto è l'uscita dalle officine Dalle officine Lumière Eh di che cosa parla secondo te Di persone che escono da un'officina Da una fabbrica Bravo bravo Scusate per lo spoiler a chi magari lo voleva vedere Questo in effetti è il primo film Proiettato con un pubblico pagante Per la precisione il 28 dicembre del 1895 In un caffè di Parigi E durava 45 secondi E voi direte Ma è possibile che la gente paghi un biglietto Per andare a vedere un film Che adesso se non dura tre ore La gente si arrabbia Perché dice Oppenheimer Se dura almeno di 180 minuti La gente vuole indietro i soldi In realtà no Perché i film proiettati quel giorno Furono in tutto 10 E tutti dei fratelli Lumière Cioè se non ti piaceva il genere Hai rifregato completamente Dice Ma mi piacciono molto E te ne cucchi 10 Perché devono riuscire a tirare almeno Una quindicina di minuti In mezzo agli applausi Le cose magari una mezz'oretta Comunque tra tutti questi 10 film Quello del treno Non c'era Ah non c'era proprio Non c'era Dobbiamo aspettare una settimana Il 6 gennaio 1896 Ed è lì che viene proiettato Sto benedetto treno Che arriva alla stazione di La Ciutat Che è il titolo proprio del film Comunque come prima ha accennato Emi Anche la gente che scappa dal cinema Perché è impaurita dal treno E ha tutti gli effetti Un mito da sfatare E perché? Perché l'abbiamo detto prima Non ci sono testimonianze Giornali Niente di niente su Pubblico impanicato Impaurito Impressionato Niente di tutto ciò In particolare il film Ebbe più risonanza Dopo la sua uscita Nel senso all'inizio Non venne molto considerato Tant'è che infatti Questa storia della paura Del pubblico in sala Iniziamo a trovarla Nei repertori di aneddotica Cinematografica Più o meno Dal secondo dopoguerra In poi Ok da lì in poi Si comincia a dire Di questa storia Quindi come sappiamo Altra cosa tipica Dei falsi miti Se viene raccontato Tanto tempo dopo Perde un po' Di significato E in particolare Vi cito la fonte Perché è importante In questo caso Perché si tratta Di un professore Dell'università di Trier In Germania Che si chiama Martin Loeperdinger Che in un lunghissimo articolo Sentenzia L'aneddoto Secondo cui il pubblico Si sarebbe sentito Fisicamente minacciato Dal film E per questo Avrebbe reagito Col panico Deve essere relegato Nel reame Delle fantasie storiografiche Un po' Ecco Come è fantasia Che i fratelli Lumière Abbiano inventato il cinema Anche se comunque Hanno dato il loro Importantissimo contributo Anche in termini di numeri Perché hanno fatto tipo 800 miliardi di film E vabbè Quindi noi Anche oggi Possiamo dirvi Una volta per tutte Che non è vero Che il cinema È stato inventato Dai fratelli Lumière E che il treno Che arriva alla stazione Di La Ciutat Non fece male a nessuno Tranne a Fantozzi Che in Super Fantozzi Viene travolto Dal treno Che effettivamente Entra nel cinema Mentre la gente Scappa impaurita E noi torniamo domani Con un altro Mito da sfatare Ciao Miti da sfatare Miti da sfatare È un podcast Scritto da Emilio Silvestri E Francesco Martinelli Curato da Alessandra Bruno Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Una produzione One Podcast